eh però di qua è peggio perchè ti circo è meglio eh è meglio questa che quella l'altra lo scalatore è a piedi oh non c'è un cazzo da fare sto balordo va su eh ma porco il caneo eh ma lì prendi dentro eh non ci sta su è uguale non ci sta dentro la moto è uguale guarda io come sono qua cazzo bravo sentito guarda Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.